Nel giudizio di appello bis dell'indagine antidroga a Boomerang, i giudici nisseni di secondo grado hanno sostanzialmente confermato le pene già imposte agli imputati. Le uniche variazioni, seppur minime, riguardano le posizioni Virgilio Terranova e Salvatore Valenti, 14 anni e 5 mesi, a fronte dei 14 anni e 8 mesi. Per il resto, la decisione sottoposta ad annullamento e la Cassazione rispetto ad una delle aggravanti è stata confermata 16 anni e 4 mesi per Giacomo Gerbino, ritenuto l'organizzatore del traffico di droga, 10 anni e 8 mesi per il vittoriese Fortunato Vella, che avrebbe assicurato l'appoggio nella zona del Ragusano, 10 anni a Gaetano Renne e Bartolomeo Palmieri, in continuazione con una precedente sentenza in quest'ultimo caso, 9 anni a Giovanni Tumino, 8 anni e 8 mesi a Salvatore Ragnolo, 3 anni e 4 mesi per Giuseppe Iapichello, l'unico al quale non veniva contestata l'ipotesi più grave dell'associazione, Carmelo Pelligra, in appello 2 anni e 8 mesi. Gli inquirenti ricostruirono l'affare della droga, che avrebbe avuto in città un centro nevralgico, con appoggi nelle piazze catanesi e vittoriesi. Tutti gli imputati, attraverso le difese, optarono per il giudizio abbreviato. Un altro filone processuale ancora in corso, proprio in appello, spetterà le difese e concluderà a settembre. È stato però accolto il concordato per Salvatore Gambino, rappresentato dal legale Filippo Spina, altro imputato considerato tra i pezzi importanti del gruppo individuato dai carabinieri. La pena complessiva ha 12 anni di detenzione a fronte dei 14 iniziali.